Da questa esperienza mi aspetto di imparare tanto, di divertirmi e di portare tante novità nel mio salone. Alla fine di questa avventura mi vedo più ricca, più carica e più piena di iniziative nel mio salone. Sono venuta qua per vincere. Secondo me è tutto bellissimo. Ovviamente un po' di emozione c'è, però sono contentissima del lavoro che ho fatto e penso anche i giudici lo siano. Sono contentissima di tutto. È un'esperienza unica perché comunque fare un corso di aggiornamento su una nave è qualcosa di fantastico proprio. Poi il corso è stato bellissimo, infatti l'ho detto anche a loro. Ho fatto tanti corsi di aggiornamento, però sinceramente come spiega la Longhi non spiega nessuno. Cioè proprio le cose te le fa entrare e te le fa comunque trattenere. Quindi mi porto un bellissimo bagaglio di emozioni, di cose nuove a casa che comunque metterò a pieno nel mio negozio. Grazie. 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 Grazie.